Il rombo dei motori accompagna le vaccinazioni anti-covid. All'autodromo del Mugello è stato allestito un nuovo centro vaccinale con una capacità di 360 dosi al giorno su due linee vaccinali, attive su tre turni dalle 8 alle 22 per 14 ore al giorno, 7 giorni su 7. L'area dedicata alle vaccinazioni è stata allestita con due box e un terzo di emergenza, ha una zona di accoglienza e una di stazionamento post-vaccinazione. All'apertura ha partecipato tra gli altri il presidente della regione toscana Eugenio Gianni. Sono quasi 90 gli hub in Toscana, ci consentono di tenere questo ritmo delle 30.000 vaccinazioni al giorno, da domani saranno integrati dai vaccini che autonomamente si faranno le aziende, partiremo proprio domani mattina con la Copp, poi Lady Lilli, i Tasci e contemporaneamente stanno ingranando i medici di famiglia, in modo da dare alla campagna di vaccinazione una prospettiva che è quella di arrivare all'immunità di gregge entro settembre. L'attivazione del lab dell'autodromo è stata possibile grazie alla collaborazione tra l'azienda sanitaria Toscana Centro, la Società della Salute del Mugello, il Comune di Scarperia, San Piero Assieve, Mugello Circuit e le associazioni del volontariato. Apriamo un altro centro vaccini, qui all'autodromo, tra 350 e 400 sono i vaccini che possiamo somministrare durante la giornata, dalla mattina alla sera, abbiamo superato 17.000 dosi che possiamo somministrare giornalmente, quindi c'è una potenza di fuoco molto grande, vacciniamoci. L'attività, quindi siamo una realtà importante di questo territorio del Mugello, della Toscana, quando il territorio ha bisogno non possiamo che trovare ogni e qualsiasi soluzione per agevolare e alleviare il problema della cittadinanza.